Ciao a tutti voi da Rosi, benvenuti a questo nuovo appuntamento con la nostra vetrina. Oggi nella nostra vetrina vedremo le grandi occasioni di Elite Car. Accanto a me è Alberto, che saluto. Ciao Alberto. Ciao Rosi, un bel ritrovato a tutti. Prima di iniziare con le cosine di questa sera, vi ricordo che Elite Car si trova a Magenta, in Corso Italia 40, veramente molto facile da raggiungere se prendete la Milano-Torino, uscita a Mar Callo Mesero e ci trovate sul lato destro della carreggiata. Quindi direi di stringere i tempi e andare a presentare subito le super occasioni di questa sera. Andiamo. E partiamo subito con il cavallo di battaglia di Mercedes, quindi nuova classe A, ultimo restyling, vi ricordo vetture aziendali con pochissimi chilometri, un anno di vita circa, vetture coperte ancora da garanzia ufficiale, ma in Elite Car l'estensione di garanzia sul segmento A e B è compreso nel prezzo, cosa vuol dire? Che la vettura avrà una garanzia della durata di 4 anni a partire dalla prima in metacolazione tedesca della vettura, ok? Giusto per chiarire come funziona. Le macchine a livello di cilindrata ovviamente si ha il motore benzina, che può essere da 122 cavalli 1.6 o da 211 cavalli 2.000, in alternativa c'è anche un bolide con un motore 2.000 4x4 da 361 cavalli barra 381 perché all'ultimo restyling prevede un upgrade di cavalli di 20 cavalli in più. Detto questo, motori Euro 6, trazione anteriore, catena di distribuzione, tre allestimenti su questa vettura, allestimento Style, Sport e Premium. A livello di accessori, vi ricordo che le vetture tedesche di importazione arrivano sempre ben fornite, quindi clima automatico, autoradio con bluetooth telefonico integrato, eventualmente anche navigazione con scheda SD, sensori di parcheggio anteriori, posteriori, parcheggio assistito, collision prevention assist, sistema di anticollisione, quindi calcola la distanza della vettura che vi precede e vi avverte se non siete in distanza di sicurezza, questo è molto importante. Cos'altro dire? 4,30 metri circa di vettura, una vettura veramente agile, per quanto riguarda anche ingombri, parcheggi, molto molto valida, possibilità ovviamente di aggiunta di cambio automatico, che è un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti. Detto questo, i prezzi a partire per le vetture aziendali sono da 18.900 Euro più spese di passaggio, in questo caso su tutte le vetture che vedrete, compreso classe A ovviamente, ci sono supervalutazioni del vostro usato, eventualmente in permuta ritiriamo qualsiasi tipo di permuta, ovviamente a quattro ruote, anche per quanto riguarda invece la parte finanziaria, finanziamenti a tasso agevolato o anche leasing, perché sono tutte IVA esposta e chi di voi avesse l'agevolazione legge 104, si può trattare la fatturazione della vettura al 4%. E da classe A ci spostiamo nel segmento classe B, sempre vi ricordo vetture aziendali con pochi chilometri, coperte anche in classe B da garanzia terzo e quarto anno, vi ricordo qualche particolare tecnico, quindi trazione anteriore, motori benzina e diesel, gli stessi motori diesel di cui prima non ho parlato su classe A, però vi ricordo anche su classe B, che monto lo stesso propulsore, si ha un 1.5 diesel da 109 cavalli o un 2.0 diesel da 136 o 170 cavalli. I dispositivi elettronici su classe B sono i medesimi della classe A, quindi vi ricordo brevemente, clima automatico, autoradio con bluetooth, possibilità di navigazione, parcheggio assistito, sensori anteriori e posteriori, collision prevention assist, chiusura degli specchietti elettronici, insomma ci sono veramente tanti accessori che si possono inserire, compreso il cambio automatico, ricordo, doppia frizione e cruise control. Sempre coperta da garanzia, estensione, terzo e quarto anno, vi ricordo che se eventualmente i signori fanno un finanziamento o un leasing, diciamo con Elite Car, è prevista un'assicurazione che riguarda l'incendio e furto che copre nei primi 24 mesi il valore di fattura della macchina, ovviamente dovete ricomprare la vettura in Elite Car, comunque esempio pratico, la macchina costa 25.000 euro, se ve la rubano, facciamo le corna, o viene incendio, eccetera, la vettura viene ripagata dalla finanziaria il valore di fattore di 25.000 euro, questa è una cosa molto importante e va ricordata. I prezzi sono a partire da 20.900 euro e più spese di passaggio. E da classe B ci spostiamo a parlare di CLA, in questo caso modello berlina Coupé, perché comunque rimane una vettura molto sportiva, trazione anteriore, possibilità anche di modello shooting brake, quindi station wagon, vi ricordo brevemente gli accessori, clima automatico, autoradio con bluetooth, voicetronic, quindi comando vocale per la chiamata nella navigazione, navigazione, cruise control ovviamente sì quando abbiamo il cambio automatico, ha 7 rapporti anche in questo caso a doppia frizione, collision prevention assist, 3 allestimenti anche su questa vettura, una style, una sport e una premium, quindi vettura molto aggressiva, quindi su CLA prezzi a partire da 24.800 euro più spese di passaggio, quindi immatricolazione, io quando parlo di passaggio è immatricolazione della vettura, su invece CLA abbiamo la possibilità a pagamento di estendere l'estensione appunto di garanzia del terzo e quarto anno con delle cifre veramente convenienti, quindi anche qui possiamo arrivare a una copertura di garanzia che parte dalla prima immatricolazione e dura 4 anni, la garanzia è compresa in tutta Europa, non è solo data nei punti ufficiali italiani, perché la garanzia ovviamente è europea. Detto questo, supervalutazione del vostro usato, finanziamenti a tasso egevolato e leasing, si può trattare anche CLA e tutte le vetture che vedremo questa sera con l'iva egevolata a legge 104 al 4%. Ed ora passiamo nel segmento classe C, in questo caso una bellissima berlina, ma ha disponibilità nel car anche di modello Station Wagon, motorizzazioni benzina e diesel, tutte rigorosamente Euro 6, possibilità di cambio automatico, ma la vettura ovviamente nasce con un cambio meccanico a 6 rapporti. Riepilogo velocemente gli accessori, clima automatico, B-zona, autoradio con Bluetooth telefonico integrato, streaming, navigazione di serie, fari con tecnologia totalmente full LED, sia anteriori che posteriori. Collision Prevention Astic Plus, insomma vetture veramente molto accessoriate, e eventualmente possibilità di estendere la garanzia del terzo e quarto anno con dei prezzi convenienti, prezzi poi della vettura a partire da 25.800 Euro più spese di immatricolazione, possibilità di permuta usato, superrotazione quindi il vostro usato, anche rotamazione, ed eventualmente tassi di interesse egevolato per quanto riguarda finanziamenti, leasing, maxi minerate, perché no? Vi ricordo una cosa brevissima, anche se riguardante appunto i finanziamenti voi fate un finanziamento con incendio e furto, se succede nei primi 24 mesi, purtroppo che eventualmente ve la rubano o ve la incendiano, la finanziaria risponde con il valore di fattura, quindi 25.800 Euro più spese di passaggio, la finanziaria vi riconosce questo importo, ovviamente dovete comprare la vettura ancora in Elite Car. Ed ora parliamo di classe GLA, crossover di casa Mercedes, trazione anteriore o 4x4, possibilità di cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, o cambio manuale a 6 rapporti. riepilogando gli accessori, clima automatico, autoradio con bluetooth, voicetronic, piuttosto che streaming telefonico appunto per il bluetooth, prese USB, collision prevention assist, quindi sistema di sicurezza attivo. Signori, una macchina veramente molto accessoriata, vi ricordo provenienza tedesca, un anno di vita, le vetture vanno rimatricolate in Italia, secondo anno in mese corrente, anno garanzia ufficiale casa madre, ovviamente in Italia ma in Europa. Possibilità di estensione di garanzia anche con questo prodotto, a pagamento, però con veramente un costo minimo. Quindi, voglio dire, signori, venite a trovarci, perché sicuramente anche su GLA avremo la vettura con colori e allestimenti, che fa per voi. I prezzi sono a partire da 25.900 euro, più spese di immatricolazione. Sempre restando sul prodotto aziendale tedesco di importazione, signori, affrettatevi, perché in Elite Car troverete, fino all'esaurimento scorte, il modello precedente di classe E ha dei prezzi fantastici. Macchina che ha avuto un cambiamento generazionale da pochissimo tempo, però veramente macchina ad alto livello qualitativo. Versione berlina e station wagon. Motorizzazione di benzina diesel, cambio automatico, cambio manuale, insomma, veramente macchine con un sacco di accessori. C'è ancora vasta disponibilità, però sta esaurendo, perché col prezzo di 29.800 euro più spese di passaggio, voglio dire, ovviamente è una vettura che veramente sta andando molto bene. Cos'altro dire? Quando io parlo di prezzi di entrata, diciamo, i prezzi a partire da, vorrei specificare per trasparenza, che comunque sono prezzi a partire da la cilindrata, per dire benzina, barra diesel minore, con cambio meccanico. Certo che se una persona vuole il cambio automatico, paga il supplemento minimo del cambio automatico, però è giusto specificarlo, perché Elite Car è conosciuta, penso anche per serietà e trasparenza, quindi è giusto dire questa piccola premessa. Detto questo, anche in questo caso abbiamo super rotazione dell'usato, abbiamo finanziamenti agevolati, con tasso di interesse agevolato, finanziamenti, quindi leasing, eventualmente fatturabile con legge 104, anche per classe E. Quindi, signori, venite a trovarci, perché veramente il prodotto sta finendo, ma siamo ancora in grado di darvi un ottimo prodotto qualitativo in vari colori e allestimenti. Vi ricordo, signori, inoltre, che ovviamente per questione di tempo non siamo riusciti in questa puntata a farvi vedere l'intera gamma, però qui troverete sia le vetture aziendali, ma anche nuove, e anche il segmento SUV come GLC, GLE, SUV e Coupé. Quindi, signori, venite a trovarci, perché anche nella gamma SUV riusciremo a darvi una risposta molto conveniente a dei prezzi veramente fantastici. Ed ora, prima dei saluti finali, passiamo in gamma smart. Vi ricordo, in Elite Car, sempre prodotto tedesco di importazione, un anno di vita a pochissimi chilometri, sia in versione 4.4, ma anche in versione 4.2. Possibilità di cambio manuale o cambio automatico. Dispositivi di serie, servo sterzo elettronico, climatizzatore automatico, autoradio con streaming Bluetooth telefonico integrato, e quindi, voglio dire, e cruise control, scusatemi. Quindi, molto accessoriate, cerchi in lega, vari colori, allestimenti, tutte vetture, vi ripeto, con pochissimi chilometri, un anno di vita, anche in questo caso, possibilità di estensione di garanzia del terzo e del quarto anno, con un costo veramente ridicolo. Detto questo, vi ricordo che è prevista anche una rottamazione, piuttosto che una valutazione del vostro usato. Tassi di interesse agevolato per quanto riguarda finanziamenti e leasing, cos'altro dire? Direi il prezzo a partire da 7.900 euro più spese di immatricolazione. Quindi, voglio dire, prezzo eccezionale. Quindi, vi ricordo che Elite Car si trova a Magenta, in Corso Italia 40, facilissimo da raggiungere. Prendete la Milano-Torino, uscita Mar Callo-Meser, ci trovate sul lato destro della carreggiata. Ultima cosa, Elite Car non è solamente vendita, ma è anche ufficina autorizzata e carrozzeria, quindi è in grado, veramente, di dare la risposta nel settore automotive con tanta serietà e qualità. Quindi, veramente, grazie che ci seguite, perché siete veramente in tanti. Un saluto di cuore a tutti. Adesso faccio salutare qui Rosi. Ciao, l'ho dimenticato il microfono di là. Ciao a tutti.